Allora, babbo, mamma o chiunque vada a comprare le cose, è inutile comprate questi gelatini che da qui sembrano grossi, 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 e invece sono piccini, 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 cioè io, gelatino sì, me li mangio in un morso solo, ma. E poi, è normale, solo mando i tre, perché vado uno, ecco, non ci voglio.